Grazie davvero per l'invito, per ricordare una persona che io non ho conosciuto, Joe Cox, che però è una politica che è di grande ispirazione, insomma io non vorrei intervenire sulle questioni legate alla politica britannica di oggi, mi ha fatto piacere vedere nel video con cui abbiamo iniziato le immagini di quella manifestazione del 25 di marzo che abbiamo anche fatto insieme e ho ascoltato l'ambasciatore Armellini, poi ci sarà Cangelosi, ci saranno anche altri ancora più esperti di me. Mi ha fatto un po' rabbrividire in quello che diceva Armellini di sentire il nome di Reece Mogg che ha avuto almeno un figlio che è stato diciamo tra i più pittoreschi sostenitori di questa Brexit assurda, diciamo guardando il Parlamento britannico nei mesi passati lui era quello veramente il personaggio più improbabile dei difensori della Brexit. Detto questo io vorrei dire due cose su Joe Cox, la prima è che vorrei ricordare il suo lavoro sulla solitudine, veniva citato nell'intervento prima di me quella frase che Joe ha lasciato, quella frase del suo maiden speech, abbiamo più in comune di quello che ci divide, e già quella frase è una frase che ci dice di quanto potenziale ci fosse in lei e di quanta capacità di commentare con delle parole profetiche quello che sarebbe venuto dopo. In questi giorni dire che abbiamo più in comune di quello che ci divide è una cosa che immediatamente ci spara negli Stati Uniti, dove vediamo una società molto divisa e dove però tutti quanti noi pensiamo la stessa cosa, cioè in fondo siamo tutti esseri umani e questa divisione razziale è assolutamente incredibile. E la stessa cosa è il suo lavoro sulla solitudine. Joe promosse prima di morire una commissione parlamentare sul tema della solitudine, quattro anni fa. È un lavoro che a me ha molto affascinato e che sto approfondendo proprio per capirne anche i risvolti italiani, ma credo che il tema della solitudine fosse un tema, la scelta del tema della solitudine è una scelta anche qui profetica, perché ci siamo resi conto di quanto questo tema è importante durante l'epidemia dei Covid. Quante persone hanno sofferto la solitudine? A quante persone noi ci stiamo rivolgendo con misure di sostegno al reddito, con altri tipi di misure? Proprio perché oggi la società è molto più atomizzata, anche la società italiana, che pure è una società molto più legata al tema delle famiglie, molto più legata a valori comunitari rispetto a un paese come il Regno Unito, anche in Italia durante il Covid è stato secondo me evidente di come la questione della solitudine è la vera sfida del nostro tempo. E il fatto che una giovane parlamentare donna e progressista ponesse questo tema al centro della sua attività politica e poi purtroppo con la sua morte lo abbia fatto diventare uno degli argomenti su cui il Parlamento britannico si è riunito e ha fatto un lavoro molto approfondito per cercare di capire le dimensioni della solitudine, la definizione della solitudine nella società contemporanea, le risposte alla solitudine e secondo me è una cosa che va ricordata in una serata come questa, anche appunto per capirne diciamo i risvolti italiani e i risvolti di una politica progressista. Io credo che la solitudine sia l'altro lato della medaglia della rabbia e della paura, cioè quando le persone sono sole allora diventano o arrabbiate di fronte a dei problemi più grandi di loro o hanno paura di situazioni che non sono in grado di affrontare. E quindi una buona politica progressista è una politica che sa vedere questo tema, sa analizzarne le dimensioni e sa trovare delle risposte nel senso di comunità, sa inventarsi un welfare diverso, sa inventarsi un sistema economico anche diverso che tiene conto insomma delle questioni di tutti. Solitudine non è solo gli anziani che sono soli e che non sanno chi va a fargli la spesa nel momento dell'emergenza, ma solitudine sono anche le famiglie oggi che magari hanno i nonni lontani, non sanno dove mettere i bambini, non hanno saputo cosa fare con i bambini durante la scuola. Solitudine è non saper affrontare dei problemi più grandi di te e questo è davvero un bel lascito da approfondire di Joe Cox. La seconda cosa su cui vorrei spendere qualche parola del suo lascito riguarda invece il fatto che lei è stata purtroppo la prima di una sequenza di omicidi politici che sono avvenuti in Europa. C'è stata lei, c'è stato il sindaco di Danzica, c'è stato quel esponente locale tedesco della CDU ucciso da uno squilibrato di estrema destra perché si occupava di immigrati. Lo dico perché insomma sembra impossibile che nell'Europa di oggi, degli ultimi 4, 5, 6, 7 anni, la violenza politica possa essere un'arma del dibattito politico, ma purtroppo lo sta diventando e io credo che non lo dobbiamo sottovalutare perché sta succedendo in paesi molto diversi tra di loro, la Germania, la Polonia, il Regno Unito, su questioni diverse tra di loro ma molto collegate e che hanno tutte quante una matrice nella difficoltà che le persone hanno di affrontare i temi della società aperta e del mondo globalizzato. Ovviamente dopo il Covid sarà una cosa sulla quale dovremo riflettere tanto in tanti e immagino insomma che una delle sedi in cui faremo queste riflessioni sarà anche tutti i consassi federalisti, proprio perché il tema di federarsi di fronte a problemi più grandi di noi e ricostruire un'architettura istituzionale per affrontare questi problemi è una delle risposte da dare. Però io credo che questa questione della violenza di fronte a questioni grandi e globali non debba essere sottovalutata e Joe Cox vada ricordata anche per questo, perché purtroppo lei è una vittima dello squilibrio e della paura che questi fenomeni stanno generando e dell'odio che una cattiva politica continua ad alimentare su questi temi. E quindi non c'è solo la sua figura ma c'è anche il simbolo purtroppo di una politica come veniva ricordato prima molto vera, molto sincera, molto autentica che però cade vittima del veleno del nostro tempo cioè della paura, dell'odio e dell'opposizione all'apertura rispetto agli altri. Questi sono due punti sui quali io credo politicamente si debba riflettere per fare tesoro di quello che lei è stata e di quello che lei ci ha lasciato ed è davvero un peccato non aver potuto sfruttare, beneficiare davvero delle intuizioni politiche ancora in nucio di una parlamentare appena eletta da un anno che io credo ha lasciato anche solo così dei semi molto interessanti non solo per il Regno Unito ma proprio per il dibattito che noi dobbiamo fare in Europa.